Dopo la perdita contro la Venezia, Boniccioli si concentrava su un'esercizionale. Come pensi che la squadra risponde? Ovviamente siamo tutti professionisti e sappiamo che una perdita come questa è molto difficile. Quindi sicuramente rispondiamo. Quando giocando una squadra come la Venezia è una squadra davvero buona. È un gioco difficile ma sappiamo che possiamo mettere più esplosione sul gioco. Sono sicuro che tutti i miei amici e tutti si concentrano per fare questo per il prossimo gioco. Ok, la prossima domanda. Hai giocato la Virtus Bologna, Raja Venezia e il prossimo gioco è contro la Brescia. Tre top team in la Liga. Questo significa che la ultima lega della scuola sarà semplice. Vedete una scuola nel gioco? Sì, è possibile arrivare al gioco, ma abbiamo bisogno di concentrarsi su ogni gioco. Quindi non possiamo andare troppo avanti. Il gioco è ovviamente ottenuto, ma abbiamo bisogno di concentrarsi su quello che bisogna di concentrarsi per ottenere ogni gioco. In due settimane dovrai giocare in Dertona per l'8th place e una sede potenziale. È un gioco cruciale per te? Sì, come ho detto, ogni gioco è un gioco importante a questo punto della scuola. Quindi siamo arrivati a ogni gioco. È un gioco di do-or-die. Quindi ogni gioco sarà davvero difficile. E noi sappiamo che ogni gioco sarà davvero difficile. Quindi abbiamo bisogno di venire in ogni gioco e restare in concentrarsi. E i risultati mostrano. Ok. Quindi penso che mentalmente devi essere all'interno del gioco. Quindi penso che il focus mental è una parte molto importante. Ok. L'ultima domanda. Come pensi che il team risponde alla notizia che David Logan va a ritirare e ha lasciato il team durante la scuola? Hai parlato con lui dopo aver lasciato? I mean, obviously, everybody was, you know, a little shocked about it. But, I mean, he's been playing for 20 years. So, I mean, it wasn't super surprising that he decided to retire. But, obviously, David Logan, he's a great player and he was a big part of this team. So, I mean, it was tough for us to, you know, adjust to that. But, I mean, right now we're moving forward, so. So, I mean, I'm going to get to the show. So, I'm going to get to the show. So, see.